sono quattro sono quattro poker poker di questa nazionale mamma mia come gioca mamma mia come gioca si vede il gioco di spalletti già si era visto contro la Francia una grande Italia si era visto nel primo tempo contro il Belgio una grande Italia un'Italia che anche oggi poteva finire con un ampio margine cioè quattro cose oppure pochi perché nel primo tempo l'Italia poteva già vincere 3 a 0 per tutte le occasioni che ci abbiamo avuto oggi l'Italia che nel primo tempo oggi siamo mangiati in sacco di gol se no sta partita poteva finire con molto più margine che Italia ma come giochiamo come giochiamo ragazzi è qualcosa di impressionante ragazzi Tonali è un giocatore preziosissimo Di Lorenzo messo in quella posizione rende veramente bene cioè nel complesso oggi calcolate Di Lorenzo che è sempre quello che lo boccio tra virgolette sempre nelle pagelle ragazzi ma oggi ha fatto una partita sontuosa a parte i due gol ha fatto una partita sontuosa oggi man of the match penso di Lorenzo Tonali pure mamma mia Di Marco ma di che stiamo a parlare pure Di Marco ragazzi sono 3 partite di fila che Di Marco gli devo da 7 e mezzo 8 in pagella veramente sforna assist come non ci fosse un domani poi è quasi è quasi un attaccante sta più in attacco che in difesa ma come giochiamo bene è vero che contro Israele ma ragazzi Israele è una squadra che non va sottovalutata c'ha un sacco di giocatori interessanti molto giovani per il futuro secondo me che posso far bene non a caso ragazzi Israele dalla serie B è salita dalla serie A perché secondo me nel futuro secondo me ha una buona base per essere una buona nazionale secondo me anche oggi a tratti si è vista che comunque in qualche momento ci ha messo in difficoltà diciamo che sono stati molti molti pochi i momenti in cui siamo stati in difficoltà perché la Rosa ha girato molto bene cioè nel senso a parte le occasioni che ne abbiamo create veramente tanto ma pure dal punto di vista difensivo siamo stati abbastanza solidi a parte quel gol che abbiamo preso certo è che a me sembrava secondo me anche da annullare il gol secondo me dell'Israele perché c'era fallo su Vicario che non è stato dato il fallo però comunque nel complesso lo posso accettare dai lo posso anche accettare vedete ragazzi non c'è Pellegrini che fa i danni l'Italia ma ragazzi ma pure Maldini come è entrato in partita ha fatto un'azione che ha portato poi il gol del 4-1 dell'Italia un tunnel l'ha fatto mamma mia cioè oggi che devo dire sull'Italia cioè oggi mi sono piaciuti tutti non c'è uno che dico oggi non mi è piaciuto tutti dal 6-6 e mezzo in su cioè forse anche dal 6 e mezzo in su cioè il voto più basso che darò alle paginele sarà al 6 e mezzo forse l'unico 6 che do e al portiere perché non ha affatto chissà che parate quindi diciamo che l'unico 6 che darò sarà forse a Vicario perché poi il resto tutti quanti dal 6 e mezzo in su veramente è una grandissima Italia che tra l'altro siamo primi poi vedremo la classifica siamo primi perché la Francia pure ha vinto e poi comunque siamo comunque lì sempre in testa alla classifica in questa Nations League ci dobbiamo per forza di cosa dobbiamo andare alle Final Four ma che Italia ciao ragazzi e bentornati in questo video qui a Giapez oggi stiamo qui ragazzi nel Giapez commento e commentare il post partita di Italia Israele che finisce per il risultato di 4 a 1 poker azzurro poker dei nostri azzurri che diciamo sottomettiamo tra virgolette l'Israele poverina perché questa partita poteva finire anche con più margine prima di analizzarvi nello specifico della partita vi ricordo 4-5 esempi cose da fare un mi piace per supportare questo video mi raccomando tanti like un commento di tema la vostra e cosa ne pensate di questa nazionale come la vedete in ottica futuro in ottica magari anche mondiale come possiamo possiamo qualificarci nel prossimo mondiale o in questa Nations League se possiamo vincerla secondo me l'Italia può essere quella squadra che ha quel potenziale che può anche l'ha vinta l'Olanda perché non la può vincere l'Italia l'Italia pure la potrebbe vincere se gioca con questa intensità ragazzi non abbiamo paura di nessuno possiamo giocare contro chiunque con questa mentalità con questa forma con queste prestazioni possiamo veramente giocare con chiunque chapeau per Spalletti perché adesso si vede il lavoro della nazionale cosa che avevo criticato nell'europeo il lavoro il mancato lavoro di tutti quanti dello stesso allenatore ma anche dei giocatori non sapeva cosa fare Spalletti era disorganizzato adesso punta sui giovani tra l'altro tanti esordi anche la settimana scorsa ha esordito Pisilli questa sera hanno esordito Lucca e ha esordito Daniel Maldini quindi dopo il padre Cesare dopo il figlio Paolo arriva anche il nipote Daniel Maldini tra l'altro esordisce nello stadio di Friuli appunto nello stadio nello stadio Friuli tra l'altro dove ha esordito lo stesso padre con il Milan ha esordito proprio nello stadio di Friuli appunto quindi esordio tra l'altro ricordato secondo me anche con una buona prestazione è entrato bene in partita se vedeva che voleva subito mettersi in mostra mi è piaciuto l'atteggiamento e la voglia incide subito che ha portato poi appunto come ho detto il 4-1 dell'Italia ovviamente vi ricordo di attivare la campagna per rimanere a giocare tutta quanta settimana domani usciranno le pagelle quindi farò un post sulla community quindi rimanete sintonizzati e andate a vedere ovviamente recuperate i discorsi vedete questo ma rischiato a fine video e se vi va seguitemi i social link sotto in descrizione parliamo della partita allora come ho detto l'Italia inizia bene nei primi già nella prima mezz'ora crea tanti pericoli in cui però non riusciamo a incidere un po' ci siamo mangiati un po' di gol un po' di sfortuna ci sta perché le taghi prima del gol che è arrivato poi su rigore ci ha avuto altre occasioni prima del gol un'altra occasione mi pare ce l'ha avuta anche Frattesi che però se lo mangia il gol comunque già dall'inizio si vedeva che questa partita era una partita che potevamo vincere con tranquillità poi ci siamo sbloccati al 41esimo c'è stato questo fallo giustamente che è stato poi dato calcio di rigore dal dischetto reteghi freddo e glaciale spiazza il portiere e gol del 1 a 0 e poi il raddoppio arriva nel secondo tempo al 54esimo questo su questo che era calcio d'angolo mi pare su calcio d'angolo c'è stato il cross di 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 Raspadori arriva il colpo di testa mi pare di Lorenzo segna di Lorenzo però non mi ricordo se il cross lo fa Raspadori comunque assist di Raspadori sul gol di Lorenzo si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa oltre essere bravo dal punto di vista difensivo oggi mi è piaciuto anche molto di Lorenzo in fase offensiva si è inserito tanto sia quando l'Italia attaccava lui faceva il quinto quasi diciamo che partiva come braccetto di destra ma in realtà ha giocato ha giocato anche molto in fase si è inserito tanto diciamo che questa sorta di 3-4 3-5-2 3-5-1 1-3-5-2 è diventata una sorta di diciamo si abbassava quando si abbassava cambiaso saliva di Lorenzo cioè si sono alternati molto poi giustamente Di Marco su quella fascia veramente fa il panico fa veramente il panico io penso che che sia attualmente uno dei migliori esterni barra terzini d'Europa Di Marco a mani basse veramente che giocatore eccezionale anche oggi fa un assist delizioso sul 3-0 arriva questo cross pennellato in mezzo in cui segna poi Frattesi ma lì è stato il grande c'è stata poi un'altra occasione sempre di cross di Di Marco Frattesi non ci arriva Riteghi la tocca ma il pallone finisce di poco fuori mi pare era sul 2-0 l'Italia già vinceva 2-0 prima del gol di Frattesi c'è stata un'altra occasione in cui c'era avuta sempre Frattesi con cross di Di Marco pallone in mezzo Frattesi non ci arriva Riteghi la prende ma il pallone che sfiora diciamo la parte esterna della rete e poi arriva il gol al 73 arriva il gol di Frattesi su questo cross di Di Marco appunto pennellato in mezzo bravo Frattesi che si inserisce benissimo come al solito è quasi un trequartista è una mezzala che però diventa quasi un trequartista è molto offensivo Frattesi e trova la terza il gol del 3-0 no prima c'è stato il gol aspettato dell'Israele che ha accorciato distanze appunto con Abdufani diciamo che lì secondo me forse c'era su questo contrasto ha avuto la meglio il giocatore dell'Israele su questo colpo di testa diciamo però diciamo lì secondo me c'era il fallo forse su Vicario che non è stato dato accorciare distanze 2-1 poi ho detto il 3-1 di Frattesi sul cross di Marco e poi la ciliegia sulla torta poi esordiscono appunto come ho detto Lucca e Maldini entrano dopo dalla panchina insieme a Buongiorno Udoge mi sono dimenticato Udoge pure che partita Udoge e Maldini sono entrati insieme e hanno fatto due prestazioni top sono entrati benissimo in partita tra l'altro l'azione è stata bellissima dei due subentrati il tunnel di Maldini che passa la palla per Udoge Udoge che la crosta in mezzo l'inserimento di Giovanni Di Lorenzo che si inserisce di cattivert a questo gol rasotera in cui il portiere non ci può arrivare perché il pallone era angolatissimo e il gol del 4-1 e il gol del KO quindi con l'asse Maldini Udoge e poi Di Lorenzo che spettacolo oggi veramente calcio spettacolo detto ciò fatemi sapere la vostra siamo primi nel giro nella Francia che sta sempre sotto di un punto siamo a quota 10 la Francia a quota 9 diciamo che qualificazione matematicamente penso fatta ormai perché non da primi ovviamente la prossima sarà il ritorno contro la Francia che giocheremo in casa vediamo se passiamo come primi o come secondi ma è questo da vedere sempre e comunque Forza Italia Forza Azzurri daie daie che bella nazionale ciao